Ciao a tutti, siamo il dottor Ivano Rossetto e la dottoressa Angelina Andreatta, siamo farmacisti da più di 30 anni. La nostra farmacia si trova in centro a Malcontenta, vicino alle scuole medie. Siamo innamorati del nostro lavoro e ci mettiamo anima e cuore. Ciò che ci ha portato al successo è l'empatia nei confronti dei nostri clienti e soprattutto il fatto di essere sempre attenti alle loro esigenze. Siamo farmacisti orgogliosi della nostra professione e nello stesso tempo rivolti all'innovazione per poter proporre al nostro pubblico sempre nuovi servizi. Nella nostra farmacia c'è la possibilità di effettuare vari esami clinici tra i quali elettrocardiogramma, oltre cardiaco e oltre pressorio, l'esame dell'osteoporosi, l'esame baropodometrico per la produzione dei plantari ortopedici personalizzati e anche l'esame dell'insufficienza venosa alle gambe. Poi siamo anche una delle poche farmacie in Italia a disporre del Nomabit Test. Cos'è? È un'apparecchiatura elettronica sviluppata a seguito di uno studio condotto da un gruppo di psicologi presso l'Università di Pisa. Questo per la scelta personalizzata dei fiori di bacca. Disponiamo anche di una zona dedicata all'estetica, con strumentazioni sofisticate di autotrattamento per il ringiovanimento della pelle e la ricrescita del capello. Se la nostra farmacia può offrirvi tanto è grazie anche alle nostre dottoresse collaboratrici che ci seguono con grande passione e impegno costante. Il grazie più grande però lo dobbiamo a voi, perché nella fiducia e nella stima che ci date troviamo l'energia per offrirvi sempre qualcosa in più. Ci vediamo in farmacia per prendersi cura di voi. Ciao! Ciao a tutti!